C'erano anche le maschere cornute di Aliano nella grande festa alla Tarantella del Carnevale, all'Auditorium Parco della Musica Agno Morricone a Roma. Un progetto originale di Ambrogio Sparagna per l'orchestra popolare italiana, il coro popolare diretto da Anna Rita Colaiani e il gruppo Danzatori Popolari, diretti da Francesca Trenta e con la partecipazione dei gruppi mascherati tradizionali provenienti da Campania, Lazio, Abruzzo e Punto Basilicata. Un'ottava edizione fatta di parate spettacolari e ritmi travolgenti. Per le maschere di Aliano una vetrina romana in questa manifestazione organizzata da Ambrogio Sparagna. Sì, è una bella esperienza. Ringraziamo tutti lo staff, il nostro sindaco e siamo molto contenti di essere qui. È importante questa manifestazione perché comunque coinvolge anche le altre maschere del Mezzogiorno, in particolare del Centro Italia quest'anno, che noi intendiamo portare ad Aliano insieme ad Ambrogio Sparagna nei prossimi anni. L'anno scorso è stato con noi ad Aliano, quindi abbiamo iniziato un percorso di collaborazione che io mi auguro che duri nel tempo. Ambrogio Sparagna nella sala Sinopoli, nell'annunciare l'ingresso delle maschere cornute di Aliano, ha citato un brano di Carlo Levi. Sì, ha citato la descrizione del carnevale all'interno del Cristo si è fermato ad Eboli, che è sempre attuale. Ed è stato anche molto carino, ha fatto un'analisi del nostro territorio e soprattutto la bellezza paesaggistica del paesaggio ambientale caratterizzato dai Calanchi. Tutte le volte che noi raccontiamo questa Italia contadina, questa Italia che è sperduta nei pensieri ed era anche, ahimè, considerata un luogo così distante dal tempo, nel momento in cui noi la portiamo qui in auditorium abbiamo sempre una tensione determinante perché è proprio questo essere fuori dal tempo che fa diventare oggi questa realtà importantissima. Grazie. 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 Grazie.